Lo Yot Club Padova anche quest'anno ha organizzato la Meteorosa. La giornata come vedete non è delle migliori, siamo comunque contenti del successo ottenuto. Abbiamo avuto una decina di equipaggi iscritti che stanno aspettando assieme al comitato di giuria che le condizioni meteo in qualche modo ci permettono di fare la regata. La vedo molto difficile perché abbiamo veramente un vento molto forte e situazioni anche di mare impegnative. Probabilmente la sposteremo a data ancora da definirsi ed è la seconda manifestazione che facciamo nell'ambito del Meteoroso.